va bene ma se sono un pilota eh vabbè sono militare tu andavo a por zancudo subito, io sono militare papà io mostro nei panni ok panni dei militari ok ok raga noi lspd non facciamo noi prendiamo soltanto jet perchè noi siamo dei militari quindi non dobbiamo venire uccisi dalla polizia e noi siamo dei militari dobbiamo allora prendo la carbonizzare devo prenderla carbonizzare devo prenderla io stiamo chiamando la polizia dell'ideale metti il tettuccio raga scrivetemi nei commenti se vi piace sia da quest'auto col tettuccio o senza tettuccio scrivetemi nei commenti è tutto è tutto ok hanno sbagliato ok andiamo 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 nei panni del militare noi abbiamo oh chi ha questa che è sta macchina questa è una cosa devo prenderla mi ha sorpreso mi ha sorpreso boom no ma è troppo difficile guidarla con la prima persona vada il jet il baracalute no però le armi da militare la granata sono fuggito non mi ero accorto questa è l'unica auto che riuscirà vada andiamo a prendere il pilota militare perché noi siamo un pilota militare ma di nuovo non è possibile ma perché tutte queste macchie modificate a los angeles perché ci devono essere queste macchie modificate mica nella modalità regista ho visto due macchie modificate questa che sto guidando io è spettacolare e anche quella macchina là che assomiglia a una giagua vecchia degli anni 80 90 2000 vabbè però dobbiamo andare a Forza Ancudo perché noi già dice pilota militare quindi dobbiamo noi siamo dei piloti militari e quindi dobbiamo già andare a Forza Ancudo noi non abbiamo nemmeno un dollaro però abbiamo questa macchina con nemmeno un dollaro boom questa questa figata micidiale la Rainer la lasciamo stare perché un video di GTA online ho messo i poliziotti chiudono un occhio e non è riuscito a fare niente quindi ecco perché oggi vi ho portato la Dinka Jetter voglio vedere la sua velocità con queste tutte modifiche voglio vedere la sua velocità sono curiosissimo da qui l'aspetto sembra molto veloce molto ma molto veloce mi sembra molto il claccio non è modificato però comunque è bella la gesta modificata però a me mi piace la T20 raga togliamo il punto ok raga non sono online ma sono modalità regista i video di modalità regista non li ho mai fatti vedere e oggi è il primo video con la modalità regista moda vedete già il cargo bomba no è possibile che questa macchina modificata non riesce a salire è impossible vabbè raga ok abbiamo preso abbastanza rincorsa quindi non si scherza con la gesta via via andiamo no ma com'è possibile com'è possibile non ci credo va bene ora prendiamo tutto si è impossible si è impossible se vuole con la moto ok questa è tantissima rincorsa con questa aspetta ok vediamo guardiamo guardiamo buona raga vedete io ho già visto un getto com'è possibile come è possibile vabbè entriamo direttamente dentro forza zancudo affronteremo affronteremo cavarmati e tutto quello che c'è se no qui facciamo notte stiamo con la gesta vabbè ok con la moto con la moto è un po' si può con la moto ok questa è è super è super non vedo nemmeno sulla ma ma qua zancudo ma non quanto le auto ma non quindi proviamo con la moto ma con la moto si cade facci in mente va bene raga va bene raga ora proveremo con la moto ma sono sicuro che non ce la faremo mai perché? uno perché sono troppo lente aspetta 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 vabbè la prossima la prendiamo è proprio quella buona ma l'ho fermato ok questa moto è mia me la prendo io sono militare me la prendo io l'altro astro è mia in penna oh sì sì ce l'hai fatto raga eh vabbè ah non ti chiama il resto non ti chiama nessuno no quattro stelle quattro quattro stelle oddio 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 ma lì non l'avevo visto no 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 scappa scappa esce da me no 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 scappa scappa ha compito il caccia il caccia caccia con l'ala vabbè sono andato marina no momento non Grazie.